Io il 10 di agosto sono andata all'ufficio protesi dell'ASL di Arezzo e in modo anche abbastanza ridicolo, siccome mi hanno detto che le sbarre per il letto non erano disponibili, mi è stato detto ma lei non sa che c'è la guerra. Inizia così una sorta di odissea di Greta Palazzini, maestro di musica e attiva ad Arezzo a fianco del Calcit per ottenere gli ausili sanitari per la madre ultraottantenne malata di Alzheimer. Il 10 agosto scorso, quindi quasi due mesi fa, si presenta all'ufficio preposto munita di ricetta del medico curante per richiedere sponde per il letto, ma a quanto pare c'erano delle difficoltà. Dico sì, so che c'è la guerra, però gli anziani purtroppo se si ammalano hanno bisogno di ausili. È un mese e mezzo che aspetto, tra l'altro mi è stato suggerito di andare a una sanitaria privata, ho guardato anche poi su Google, insomma le sbarre ce ne sono a centinaia. È solo una questione di principio, basta spendere 100 euro, 150 euro le sbarre si trovano. Ma se fosse un anziano da solo, con mio babbo e basta, senza sbarre, cioè è veramente un disastro. Mia madre è cascata due volte. Il caso finisce sulla stampa e anche la nostra redazione decide di chiedere una spiegazione all'ASL che risponde con una nota scritta. In riferimento alla segnalazione della signora Greta Palazzini, la zona distretto sociosanitaria di Arezzo precisa che il disguido che ha causato il ritardo nella conseguenza delle attrezzature è dovuto al cambio del gestore dei dispositivi medici. L'azienda si è attivata immediatamente il 22 settembre appena l'ufficio protesi ha ricevuto la mail della signora Palazzini, il direttore di zona Evaristo Giglio comunica che la signora ha già ricevuto una comunicazione ufficiale per cui può ritirare l'ausilio richiesto. La nostra intervista non era ancora andata in onda e già la mail con la disponibilità degli ausili è arrivata a Greta Palazzini. Più che una risposta vorrei che cambiasse un po' il sistema, che queste cose non accadessero.